Vieni qua. No, questo ti ho visto. Ma cosa faccio la voce? Questo ti ho visto. Questo ti ho visto. Che stai a prenderla? Che prezzo fa questo? 10 euro. Tutto completo? 8 euro. Aولo 6 euro. I più in ragazza. I più in ragazza. E' molto in ragazza. E' così in ragazza. Di sono. Nullerò. Ma cosa faccio è? Un bel ricordo è. Non c'è l ricordo. la visse claudio boboa claudio boboa il si è stato buolo ebalo o'. non ne voglio non si ciao non so no su de luca